Magabra scoperta questa mattina a Ceglie Messapica all'interno di un garage adibito d'abitazione al civico 6 di via Mameli, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di una donna rumena di 27 anni e la bambina che aveva appena partorito. I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica insieme ai militari del reparto operativo nucleo investigativo di Brindisi e del nucleo operativo della compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni stanno cercando di venire a capo del giallo scaturito da una chiamata dei parenti della donna che non avevano sue notizie da qualche giorno. L'uomo allora ha bussato al garage senza avere risposta e in quel momento che ha allartato i carabinieri che per entrare all'interno dell'abitazione hanno dovuto attendere i vigili del fuoco. Una volta dentro il ritrovamento della donna riversa per terra mezzanuda in una pozza di sangue e del neonato, una bambina appoggiata in una bacinella d'acqua accanto a lei, entrambe senza vita. Sul posto oltre ai militari è intervenuto il medico legale per verificare le cause della morte che al momento non si esclude possono essere state causate per quanto riguarda la donna da una emorragia postparto. Ancora poche informazioni invece riguardo alla morte della neonata il cui cordone ombelicale è stato reciso con un coltello che potrebbe essere annegata all'interno della bacinella. spetterà ora al pubblico ministero di turno Pierpaolo Montinaro richiedere o meno l'autopsia sui corpi.